Padre Petar Iubicic, un nome strettamente legato al mistero dei segreti di Meggiugorie, rappresenta una figura fondamentale nella storia delle apparizioni mariane che si sono verificate in questa piccola città della Bosnia-Herzegovina a partire dagli anni Ottanta. La sua missione è significativa e spiritualmente impegnativa, è stato scelto da Mirjana, una delle veggenti di Meggiugorie, come custode delle rivelazioni ricevute dalla Madonna, rivelazioni che si manifestano come una serie di segreti. Essendo l'unico sacerdote a cui è stato assegnato l'onere di trasmettere questi messaggi al mondo, Padre Petar ha accettato questo compito come un impegno divino, nonostante l'enorme responsabilità e la pressione spirituale che comporta. Il primo aspetto che emerge dal percorso di Padre Petar è proprio il senso di dovere e di totale dedizione alla volontà divina che lo accompagna fin dall'inizio della sua missione. Non ha scelto autonomamente questo ruolo, né è libero di rifiutare l'incarico che gli è stato affidato, si tratta piuttosto di una scelta voluta dalla Madonna e accettata come parte integrante della sua vocazione sacerdotale. La profonda accettazione del compito assegnatogli è quindi un atto di fede incondizionata, un esempio di totale abbandono alla volontà divina, in linea con l'idea di obbedienza spirituale. Padre Petar sa che la sua missione va ben oltre il suo controllo personale e che si trova a servire una causa più grande, nella quale si riflette il piano divino per l'umanità. È così che, attraverso una profonda umiltà e un sincero affidamento, padre Petar affronta il suo compito con dedizione. La scelta di Miriana di affidare a padre Petar primo segreti ricevuti dalla Madonna non è casuale, lui rappresenta un ponte tra la veggente e il mondo, e incarna la figura di un pastore che guida il suo gregge verso una verità più alta, oltre i confini materiali e temporali. Miriana, che è stata una delle prime testimoni delle apparizioni mariane a Meggiugorie, ha ricevuto i segreti scritti su una pergamena dall'origine mistica, dove ogni messaggio è descritto con dettagli specifici. La pergamena, che diventa un simbolo concreto della responsabilità di entrambi, è destinata a essere consegnata a padre Petar dieci giorni prima dell'evento predetto in ciascun segreto. Questi dieci giorni rappresentano un periodo di preparazione, di riflessione e, in qualche modo, di avvertimento per il mondo, una sorta di countdown spirituale per gli eventi che si manifesteranno. La rivelazione al pubblico, tuttavia, avverrà solo tre giorni prima dell'accadimento, e padre Petar seguirà con devozione le indicazioni ricevute senza mai svelare o anticipare più di quanto sia previsto dal piano divino. Questo intervallo di tempo tra la consegna e la divulgazione del messaggio è significativo poiché rappresenta la preparazione necessaria non solo per padre Petar, ma per coloro che hanno fede e credono nell'autenticità di questi messaggi. In questo periodo, vi è una richiesta implicita di preghiera, di meditazione, e di riflessione sul significato e sulle implicazioni dei segreti, che non sono semplicemente delle profezie da divulgare, ma veri e propri inviti alla conversione. Nel dettaglio, i primi due segreti riguardano eventi che toccheranno in particolare la comunità di Meggiugorie, luogo delle apparizioni. Sono segreti che la donna ha destinato in modo specifico agli abitanti di questo paese, dove il fenomeno è nato e dove si sono verificati i primi contatti con i veggenti. Meggiugorie, divenuta negli anni un importante centro di pellegrinaggio e preghiera per milioni di fedeli, è il fulcro da cui si diffonderà l'eco dei primi avvenimenti legati ai segreti. Gli abitanti di Meggiugorie, infatti, saranno testimoni diretti di ciò che accadrà e saranno i primi a comprendere la grandezza e la veridicità dei messaggi ricevuti. Questo legame tra il luogo e i messaggi è fondamentale, rappresenta un riconoscimento della sacralità di Meggiugorie come luogo di rivelazione e di testimonianza di fede. Il terzo segreto rappresenta invece un passo ulteriore in questo percorso di conferma della verità dei messaggi ricevuti. Secondo quanto rivelato, il terzo segreto sarà un segno permanente, un'impronta indelebile che apparirà sulla collina delle apparizioni, precisamente il luogo in cui la Madonna è apparsa per la prima volta ai veggenti. Questo segno sarà visibile a tutti e rappresenterà una testimonianza tangibile della presenza della Madonna a Meggiugorie, un segno di grazia per chi ha sempre creduto e un ultimo invito alla conversione per chi ancora non ha accolto i messaggi della Madonna. La promessa di questo segno rivela l'importanza della fede e della costanza, poiché sarà motivo di gioia per i credenti, ma anche un monito per coloro che non hanno ancora intrapreso il cammino della conversione. L'invito alla preparazione spirituale è quindi centrale in tutto il messaggio trasmesso da Padre Petar e dai segreti stessi. I fedeli sono esortati a non attendere la manifestazione dei segreti per cambiare vita o per convertirsi, ma a intraprendere subito un cammino di purificazione e di preghiera, poiché la conversione è un atto di volontà che richiede impegno e costanza. In questo senso, la rivelazione dei segreti non è soltanto un avvertimento per eventi futuri, ma anche e soprattutto un'occasione di crescita spirituale e di riflessione interiore. La Madonna, attraverso i suoi messaggi, invita a vivere una vita di preghiera, a rinunciare al peccato e a mettere Dio al centro della propria esistenza. In tal modo, la rivelazione diventa una chiamata universale alla fede e alla carità, indipendentemente dalla religione, dalla nazionalità o dallo stato sociale. La preghiera e la preparazione spirituale sono quindi gli strumenti attraverso cui ogni persona può rispondere alla chiamata divina, senza aspettare i segni esterni per cambiare il proprio cuore. La Madonna stessa, attraverso i suoi messaggi, ha definito questo tempo come un tempo di grazia, un periodo unico in cui le persone hanno l'opportunità di riconciliarsi con Dio e di rinnovare la propria fede. Questo tempo di grazia rappresenta quindi una finestra temporale in cui la misericordia divina è particolarmente presente e tangibile. Perciò, chiunque abbia fede è chiamato a sfruttare questa opportunità per avvicinarsi a Dio, mettendo in pratica i principi del Vangelo e vivendo una vita piena di carità e compassione. Questo invito è diretto a ogni credente, ma anche a coloro che si sentono lontani dalla fede o che si trovano in una condizione di incertezza spirituale. La Madonna, infatti, si rivolge a tutti coloro che hanno il cuore aperto alla verità e che desiderano conoscere Dio più da vicino. Quando arriverà il momento, Padre Petar utilizzerà ogni mezzo disponibile per comunicare al mondo i segreti, compresi i media tradizionali e le tecnologie digitali, affinché nessuno sia escluso dalla possibilità di conoscere questi messaggi. Attraverso la radio, la televisione, internet e persino le trasmissioni satellitari, l'annuncio dei segreti sarà reso accessibile al maggior numero di persone possibile. Questa volontà di diffusione universale riflette il desiderio della Madonna e di Gesù Cristo di raggiungere ogni cuore e ogni anima, poiché la rivelazione dei segreti è concepita come un'opportunità di redenzione e di conversione globale. Padre Petar invita inoltre ciascuno a riflettere profondamente sul proprio rapporto personale con la fede e a interrogarsi sulla propria disponibilità interiore a rispondere alla chiamata divina. La preparazione a questi eventi non è soltanto una questione di conoscenza o di comprensione intellettuale, ma richiede una vera e propria apertura del cuore e una conversione interiore autentica. In questo senso, i segreti di Medjugorje non sono pensati per essere una fonte di paura o di angoscia, ma piuttosto un richiamo alla speranza e alla riconciliazione con Dio. In questo contesto, Padre Petar incoraggia chiunque lo ascolti a prendere parte a questa comunità di fede, dove ognuno può condividere le proprie opinioni, le proprie esperienze spirituali e le proprie riflessioni. La condivisione delle proprie esperienze diventa quindi un modo per arricchirsi reciprocamente, per rafforzare la propria fede e per creare un senso di appartenenza a una comunità che vive e cresce insieme spiritualmente. I commenti e le riflessioni condivise diventano allora parte di un cammino comune, un percorso di ricerca della verità e di approfondimento della propria fede, che rafforza i legami tra i credenti e promuove un senso di unità e di solidarietà. Padre Petar conclude i suoi messaggi con un sentito ringraziamento a tutti coloro che lo ascoltano e che partecipano attivamente a questa esperienza condivisa. Esprime gratitudine per l'attenzione e la vicinanza dimostrate, e invita tutti a rimanere collegati per poter continuare questo percorso di fede e di riflessione sui segreti di Meggiugorie. Attraverso i suoi messaggi e le sue parole, Padre Petar spera di poter toccare il cuore di ciascuno, di risvegliare la sete di verità e di spingere ogni persona a vivere una vita più vicina a Dio. Questo invito si riflette in ogni parola che Padre Petar pronuncia, e gli desidera che le persone non si limitino a seguire passivamente i suoi messaggi, ma che le sue parole trovino ecco nei cuori e nelle menti di coloro che lo ascoltano, spingendoli a prendere decisioni concrete per la propria vita spirituale. La sua missione non è solo quella di rivelare i segreti, ma anche di preparare l'umanità ad accoglierli con fede e con speranza, in un percorso continuo di crescita e di conversione.